Non si tratta di ronde, va detto subito, niente armi, per carità, ma per l'Abruzzo è un fatto nuovo. Il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, benedice il coinvolgimento diretto dei cittadini nel contrasto alle sortite, sempre più audaci, di ladri specializzati nel saccheggio notturno, ma anche diurno di case e attività commerciali. È il contratto di vicinato, si spera l'arma in più per tenere alla larga i malviventi da città e contrade dell'Aquilano, da settimane tormentate dai banditi a caccia di facile bottino. Ma cos'è il contratto di vicinato? Un'intesa tra comuni, forze dell'ordine, polizie locali, che autorizza l'attività di gruppi d'osservazione. Ogni gruppo ha un referente che detiene mail, telefoni e contatti whatsapp con i cittadini. Niente pattugliamento attivo, prevede la legge, né peggio ancora incaute iniziative. Questi nuclei di residenti, laddove nasceranno, avranno però un ruolo non marginale, segnalare con tempestività sconosciuti e movimenti sospetti. Al vertice del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica all'Aquila, hanno partecipato in tanti, compresi i sindaci o loro delegati di 24 comuni di Valle Peligna e area su Bequana. L'attenzione di Prefettura, questura e comandi di Carabinieri e Guardia di Finanza resta altissima, promette Torraco, ma in attesa del potenziamento della videosorveglianza pubblica, il contratto di vicinato può essere il deterrente giusto. Gianfranco Di Piero, sindaco di Sulmona, osserva un conto e il controllo nei borghi più piccoli, dove un po' tutti si conoscono, altra cosa è nelle città più grandi. In ogni caso, conclude, il tentativo va fatto.